Abbiamo appena presentato l'entrata in scena di Cesare nella politica romana. Abbiamo visto la sua ascece, i suoi patti, il suo primo patto con Pompeo e Crasso, la nascita del cosiddetto primo triunvirato e l'elezione a console. Ma appunto questa è solo la prima tappa di una ascesa molto rapida che porterà nel giro di pochi anni Cesare al potere assoluto. E oggi vediamo la seconda di queste tappe, perché dopo l'anno da console Cesare ottenne la giurisdizione della Gallia, un territorio che non sembrava particolarmente promettente, che non era particolarmente ambito, vedremo perché, e che però Cesare seppe far diventare qualcosa di più, perché conquistò ampi territori e perché pote porsi finalmente come un big della politica romana. E anche qui spiegheremo oggi perché. Sigla e andiamo a cominciare. Un sorso di caffè e latte, come al solito, nella tazza con scritto Andiamo a cominciare, che è la frase d'ordinanza. Con me ci sono, come al solito, i compagni d'avventura, li vedete qua, Topolino e Tostoi, qui un po' più in alto, Batman, là in fondo di André. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, in arte, su internet, noto anche come Scrip. Sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, che da un anno e mezzo all'incirca sta realizzando su questo canale delle video spiegazioni di storia e di filosofia, che seguono più o meno il programma che si fa alle superiori, a volte allargano il tiro, ampliano, presentano cose che si fanno di più all'università, a volte invece no. Insomma, c'è un po' di tutto se vi interessano la storia e la filosofia e l'educazione civica. Da qualche tempo sto facendo anche dei video di storia antica, perché mi sono stati ampiamente richiesti e stiamo parlando, appunto, da qualche mese di storia romana in particolare. Abbiamo fatto tutto un excursus che va da Silla in poi, in pratica. E siamo arrivati finalmente a Cesare. La volta scorsa abbiamo parlato proprio del Consolato di Cesare. Vi ho messo, anzi vi metto in descrizione, il link per recuperare quella lezione se ve la siete persa. E adesso vediamo cosa succede, perché nel 59 a.C. effettivamente Cesare, grazie all'appoggio e ai patti stabiliti in segreto con Pompeo e Crasso, diventa console e alla fine di quest'anno da console, perché ricorderete che il Consolato durava un anno, Cesare si riserva un territorio di serie B, potremmo quasi dire. Molto spesso i consoli, visto che non potevano più fare ulteriore carriera all'interno del cursus sonorum, perché la carica di console era la carica più elevata, cercavano di garantirsi, comunque negli anni successivi, di avere una certa influenza, avere un certo potere, assegnandosi terre o incarichi in giro per la Repubblica Romana, a Roma in città, oppure in giro per le varie province. Ma c'erano anche in questo caso province più ricche e province meno ricche, province più interessanti e province meno interessanti. Ad esempio, le province dell'Asia erano molto interessanti, perché erano province piuttosto ricche, quindi chi diventava magari proconsole in Asia minore poteva arraffare parecchi soldi. Anche la Spagna, la penisola iberica, era relativamente ambita. In territorio che invece si riserva Cesare, perché si riserva un proconsolato di cinque anni, su territori che però erano tra quelli meno desiderati. In particolare, il suo proconsolato, che lui appunto riserva per se stesso, riguarda tre zone, che sono zone, ripeto, un po' di confine dell'epoca. L'Illirico, che era, potremmo dire oggi, più o meno l'attuale Croazia, per capirci, quella zona costiera lì. La Gallia Cisalpina, che corrisponde all'attuale pianura padana. E poi la Gallia Narbonense, che era un filo di terra, e vi mostro anche la cartina, che sostanzialmente univa le Alpi e i Pirenei. Quindi quella fascia costiera dell'attuale Francia, dove c'è Marsiglia, per interesse dove c'è Mizza, eccetera. La fascia della Francia che si affaccia sul Mediterraneo. Ecco, quella lì era all'epoca la Gallia Narbonense. Quindi Cesare si garantisce di controllare un territorio che è un territorio abbastanza lungo, perché prende tutto il sud della Francia attuale, la pianura padana italiana attuale, e la costa d'Almata, per intenderci. Però era un territorio non particolarmente ricco, non particolarmente ambito. Perché fa questa scelta, che può sembrare un po' in controtendenza, visto che Cesare aveva dimostrato una certa ambizione e stava scalpitando per emergere? Beh, probabilmente ci sono due fattori da tenere in conto. Primo fattore, Cesare era arrivato al consolato, come vi ho detto l'altra volta, ponendosi in un certo senso come intermediario tra Pompeo e Crasso. Pompeo e Crasso sono personaggi politici, militari e economici molto più importanti di Cesare. Crasso è ricchissimo, è l'uomo più ricco di Roma. Lo stesso Cesare ha chiesto più volte prestiti a Crasso per favorire la propria ascesa politica. Pompeo è il grande condottiero militare che ha ottenuto incredibili vittorie in giro per il mondo, per l'Europa e il Mediterraneo. Cesare è l'ultimo arrivato all'interno di questa compagnia. È chiaro che nel primo triunvirato i nomi importanti sono quelli di Pompeo e Crasso. Cesare è un po' il re impitivo, possiamo dire, in un certo senso. Però lo stesso Cesare lo sa e anzi gioca, fa leva proprio su questo. Lui già all'inizio, nel primo triunvirato, si è rappresentato come quello che metteva pace tra i due contendenti, di cui i due contendenti non dovevano più di tanto preoccuparsi, non dovevano temere Cesare né Pompeo né Crasso perché Cesare voleva solo mantenere l'equilibrio tra i due. La scelta di destinare a se stesso l'amministrazione della Gallia, di queste zone della Gallia Cisalpina, Narbonense, eccetera, si arriva da un certo punto di vista a Cesare per confermare ai suoi importanti alleati che lui sapeva stare al suo posto, che lui non era un pericolo, non rappresentava un rischio per il loro potere, la loro ambizione. Quindi una scelta così di relativo secondo piano poteva fare il gioco di Cesare in questa prima fase. Questo è il primo motivo. Ma c'è il secondo motivo più importante che si sarebbe rivelato nei mesi e negli anni immediatamente successivi. Cesare sceglie di amministrare la Gallia, o meglio la Gallia romana, che è una piccola parte della Gallia dell'epoca, perché sa bene che subito a nord della Gallia Narbonense, cioè di questa fascia costiera, la Provenza per intenderci, subito a nord di questa zona che è romana, c'è un ampio territorio che non è romano, la Gallia centrale e la Gallia settentrionale, cioè tutta la Francia e il Belgio attuali. Una buona parte della Francia e tutto il Belgio attuali, e una parte anche della Germania attuali. Tutta questa grande zona è abitata da vari popoli, da tribù galliche, e tra poco vi spiegherò anche che caratteristiche avevano, ma è territorio che Cesare ambirebbe a conquistare. Cioè Cesare si riserva a questa Gallia, questi territori anche piccoli, perché sa che c'è margine di miglioramento, diciamo, perché subito a nord ci sono terre che possono essere conquistate in modo relativamente semplice, poi vedremo che non è poi così facile, ma Cesare dimostrerà anche buone capacità militari. Ci sono territori che possono essere conquistati, e Cesare si rende conto che se in futuro vorrà rivaleggiare la pari con Pompeo e Crasso, ha bisogno di accrescere la propria forza personale, ha bisogno di poter vantare anche lui delle vittorie militari. Pompeo ha ottenuto grandi successi, Cesare in realtà ancora poco o nulla dal punto di vista militare, ha bisogno di grandi imprese nel curriculum, ha bisogno di avere un esercito allenato, che abbia combattuto, che abbia conquistato, che gli sia estremamente fedele. Per far questo Cesare ha bisogno di condurre campagne militari, e il territorio che più è disponibile, che più è vicino e che più lo ha letta, da questo punto di vista, è proprio la Gallia. Quindi Cesare da un lato sceglie l'amministrazione di queste zone per non destare troppe paure nei suoi alleati, ma dall'altro sta già preparando un piano, ha già in mente un tentativo di azione. L'obiettivo è quello, nel medio periodo, perché lui si prende il proconsolato per cinque anni, quindi ha una prospettiva anche non brevissima, nel medio periodo riformare un esercito solido, che gli sia estremamente fedele, che conquisti delle terre, in modo da poter tornare in futuro a Roma, dicendo, io ho conquistato, io ho vinto, ho fatto delle grandi campagne militari, come Pompeo, e anch'io come Pompeo ho il mio esercito fedele, che ha risposto a combattere per me. Questa idea di un piano di Cesare, nel medio e lungo periodo, è confermato anche da alcuni indizi. Ad esempio, poco prima che Cesare partisse per la Gallia, per prendere possesso di questi territori, a Roma i suoi nemici vennero cacciati, soprattutto per l'intercessione e il lavoro del tribuno della plebe, in carica in quel momento Publio Clorio, un difensore ovviamente degli interessi dei popolari, e quindi strettamente legato anche a Cesare, che all'interno delle due classiche fazioni tra gli ottimati e i popolari, era visto come uno vicino, appunto, alla fazione dei popolari. Quali erano questi due nemici che vennero cacciati da Roma? Il primo era Cicerone, il secondo era Marco Porcio Catone, il giovane. Vennero cacciati in modo diverso. Cicerone, l'abbiamo già visto durante la congiura di Catilina, abbiamo ammirato le sue capacità oratorie, era per Cesare un pericolo, rappresentava un possibile avversario, da un lato perché era strettamente legato, pur essendo un homo novus, agli ambienti degli ottimati, dell'aristocrazia, agli ambienti più conservatori di Roma e quindi Cesare, che invece era legato agli ambienti più popolari, lo vedeva come un avversario, un possibile avversario. Un po' anche perché, tra l'altro, Cicerone era amico abbastanza legato a Pompeo, che in prospettiva per ora è alleato di Cesare, ma è un'alleanza più una non belligeranza, diciamo, in futuro e così sarà proprio in effetti. Pompeo potrebbe diventare un avversario. Quindi Cesare ha tutto l'interesse che Cicerone venga mandato via da Roma, non possa più intralciargli più di tanto il cammino. Effettivamente Cicerone viene esiliato da Roma con l'accusa di aver mancato di offrire un giusto processo ai congiurati all'epoca della congiura di Catilina. Ricordate che ve l'avevo anche accennato quando abbiamo parlato e in descrizione trovate il video della denuncia di Cicerone contro Catilina e contro i suoi complici e del fatto che Cicerone si era appellato al Senato perché non venissero riconosciuti agli imputati i normali diritti che invece venivano di solito riconosciuti in questi casi. Ecco, questa sua mossa gli viene, diciamo così, rinfacciata a qualche anno di distanza e adesso con l'area che sembra essere cambiata Cicerone è costretto a fare le valigie e lasciare Roma. Catilino è giovane anche lui viene esiliato per motivi simili perché anche lui è molto legato agli ambienti conservatori quindi può essere un avversario è uno che ha anche un certo ascendente sul Senato streno rifensore dei vecchi valori di Roma viene allontanato non tanto tramite l'esilio perché non c'erano accuse gravi sul suo conto ma viene mandato ad amministrare l'isola di Cipro quindi gli si offre anche un incarico ma un incarico lontano da Roma e quindi lo si toglie di mezzo diciamo, si fa in modo che non sia al centro della scena politica nei momenti che contano. Dopo queste mosse Cesare può partire può partire relativamente sollevato e può andare verso la Gallia ripeto, l'obiettivo è quello di partire dalla Gallia Narbonense che è la parte più meridionale e invadere sostanzialmente la parte centro-settentrionale della Gallia cioè tutta l'attuale Francia a parte la fascia meridionale il Belgio, l'Olanda e la Germania fino al Reno erano lì che vivevano i Galli e appunto Cesare li riteneva attaccabili che erano i Galli beh, intanto bisogna dire questo non esisteva un vero e proprio stato dei Galli i Galli erano una popolazione anche abbastanza frastagliata all'interno nel senso che erano uniti da una stessa lingua da una stessa cultura da usi e costumi da anche una certa organizzazione simile dei villaggi e delle tribù ma poi ogni tribù faceva per sé erano divisi all'interno in tante diverse tribù che a volte guerreggiavano anche tra di loro si facevano la guerra tra di loro quindi non erano riusciti negli anni precedenti nei decenni precedenti a creare un vero e proprio stato che potesse dunque reggere l'urto contro i Romani il fatto è che fossero divisi al loro interno che si facessero guerre tra di loro li rendeva ovviamente più deboli e più facilmente attaccabili da parte dei Romani perché per i Romani diventava abbastanza facile allearsi magari con una tribù contro le altre e in effetti questo iniziarono a fare già con Cesare allearsi con una tribù contro le altre e rompere il fronte avversario il classico e celeberrimo motto divide e ti impera dividi il tuo nemico e vinci e comanda su di esso perché un nemico diviso è più facile da sconfiggere ovviamente ecco qui i Romani non dovettero neppure più di tanto penare perché i Galli già si presentavano abbastanza divisi al loro interno al di là però di questa divisione il popolo dei Galli era un popolo anche relativamente evoluto che a livello organizzativo, economico, militare avrebbe anche potuto tenere testa ai Romani ad esempio disponevano di città fortificate i Galli erano organizzati in città ben strutturate c'era una buona divisione del lavoro perché c'erano sicuramente i guerrieri l'aristocrazia guerriera era quella che dominava all'interno dei villaggi e delle comunità galliche ma esistevano anche contadini, artigiani, mercanti tutti i mestieri erano grossomodo rappresentati certo il mondo contadino era preponderante ma c'erano anche discreti traffici commerciali ad esempio per la Gallia passava lo stagno inglese che poi serviva anche ai Romani i Galli avevano anche la moneta usavano la moneta, il conio della moneta insomma erano un popolo relativamente evoluto dal punto di vista politico a ruminare come ho detto era l'aristocrazia guerriera che però era affiancata da delle figure molto particolari di sacerdoti che disponevano di un grande potere sul popolo questi sacerdoti erano i cosiddetti druidi questi druidi poi non erano solo semplicemente sacerdoti erano quasi dei maghi, dei vaticinatori predicevano il futuro preparavano così oroscopi o cose di questo genere e si riteneva che potessero anche comunicare con gli spiriti comunicare con l'aldilà e quindi erano sacerdoti, maghi che avevano una certa influenza sulla popolazione e amministravano anche la giustizia quindi avevano anche compiti giuridici oltre che religiosi questa era la comunità gallica questo era il mondo che Cesare ci riproponeva di conquistare certo aveva bisogno anche Cesare di una scusa per attaccare i galli aveva bisogno di sfruttare anche le divisioni interne e questa scusa gli venne da un popolo che si era stanziato negli anni precedenti nella zona dell'attuale Svizzera quindi praticamente tra la gallia narbonese e la gallia cisalpina da un lato e la gallia vera e propria dall'altra questo popolo era il popolo degli Elvezi chi erano questi Elvezi? erano appunto una tribù stanziata in Svizzera più o meno che però in questi mesi iniziava ad essere pressata a oriente da altre tribù germaniche da orde germaniche che sospingevano gli Elvezi a spostarsi sempre più verso occidente attorno al 58 a.C. questi Elvezi quindi si presentarono sostanzialmente al confine con la gallia narbonense la zona che spettava il cui controllo spettava a Cesare che era proconsule lì avete visto anche dalla cartina la faccio vedere ancora come la gallia narbonense avesse poi questa strana forma che proprio costeggiava l'attuale Svizzera gli Elvezi chiedono il permesso di passare nella gallia narbonense ma Cesare nega questo permesso per difendere i confini romani gli Elvezi a questo punto decidono di provare a spostarsi più a nord a passare a girare diciamo la gallia narbonense e il territorio romano e arrivare quindi nella gallia vera e propria ma spostarsi più a nord vuol dire passare nei territori di altre tribù queste volte galliche in particolare gli Elvezi approdano nel territorio della tribù degli Edui un altro gruppo un'altra tribù proprio di Galli che però era in quel momento alleata dei romani quindi Cesare che nel frattempo ha temporeggiato lungo con gli Elvezi e ha avuto modo di organizzare le proprie legioni a modo di poter dire qua questi Elvezi stanno minacciando prima noi poi i nostri alleati è il momento di intervenire in difesa dei nostri alleati parte la campagna militare di Cesare che ha ragione abbastanza facilmente degli Elvezi e in maniera decisamente drastica gli Elvezi lo dice lo stesso Cesare che racconta tutti questi fatti poi anche in maniera molto più dettagliata e almeno dal suo punto di vista nel De Bello Gallico sapete la sua grande opera in cui racconta tutta la campagna di Gallia in tutte le sue varie fasi e all'inizio nel libro primo racconta proprio questa lotta con gli Elvezi che si conclude in maniera nettissima a favore di Roma gli Elvezi dice Cesare erano circa 370.000 alla fine di questa campagna ne morirono 260.000 260 su 370.000 capite che siamo nell'ordine di misura del non so 75% una roba del genere quindi è un massacro totale è un massacro totale segno di anche della forza con cui Cesare vuole dimostrare che è pronto a sferrare grandi attacchi infatti una volta che le regioni sono in marcia che si sono spostate a nord per affrontare gli Elvezi decidono di continuare nella marcia Cesare decide di non fermarsi lì i complici altre scaramucce che scoppiano qua e là e prende lo slancio per penetrare più profondamente all'interno della Gallia e spostarsi sempre via via verso nord fino ad arrivare nel giro di pochi mesi a sconfiggere i Belgi che sono l'ultima tribù più a nord e arrivare quindi all'oceano di fatto tutto era iniziato nel 58 nel 57 a.C. l'anno dopo Cesare può già annunciare al Senato di aver sottomesso tutta la Gallia di aver conquistato tutta la Gallia dal Reno all'oceano fino alla Gallia Narbonese che era territorio già romano quindi una grande conquista forse la più veloce conquista romana nel senso mai nessuno era riuscito a conquistare così tanti chilometri di territorio in così poco tempo e Cesare però ci riesce ci riesce grazie a una certa capacità tattica perché effettivamente come lui stesso ci terrà a rimarcare nel bello gallico riesce più volte a dimostrarsi tatticamente superiore ai Galli e adesso Cesare con una vittoria del genere con una forza del genere si trova catapultato subito nell'alvio dei grandi perché certo Pompeo e Crasso hanno più esperienza Pompeo ha forse ancora un prestigio superiore a quello di Cesare ma Cesare inizia a giocare diciamola così nello stesso campionato e infatti una volta assoggettata la Gallia Cesare decide anche di rientrare a Roma almeno per un certo breve periodo perché Cesare rientrò a Roma soprattutto perché era preoccupato che il Senato potesse tramare contro di lui se quando se ne era andato per diventare pro console era certo era stato console era un personaggio importante ma non rappresentava ancora una vera e propria minaccia per i grandi nomi del Senato o Pompeo e Crasso adesso che ha conquistato la Gallia è diventato vi ho detto un pezzo grosso un nome importante e come sapete l'abbiamo detto anche nel caso di Pompeo il Senato aveva molta paura che personaggi del genere personaggi ambiziosi militari che guidavano l'esercito eccetera potessero tentare dei colpi di mano già erano avvenuti in passato ed era possibile che si ripresentassero ancora non è un caso che qualche tempo prima ve l'ho detto in descrizione trovate il link il Senato avesse reagito con grande ostilità anche alle vittorie militari di Pompeo in Asia quindi Cesare si rende conto che il Senato potrebbe reagire con uguale ostilità nei confronti di Cesare che si è preso la briga di conquistare la Gallia di sua iniziativa quasi con la scusa di varie piccole scaramucce e adesso chissà cosa vorrà fare chissà quanto potere vorrà avere quindi Cesare torna in patria torna a Roma per assicurarsi e per rassicurare il Senato ma poi soprattutto Pompeo e Crasso di non avere cattive intenzioni infatti si incontra soprattutto più che col Senato si incontra proprio con Pompeo e Crasso i suoi colleghi del primo trinunvilato l'incontro tra i tre avviene a Lucca nel 56 a.C. quindi l'anno dopo rispetto alla conquista della Gallia e a Lucca i tre si mettono di nuovo d'accordo Cesare assicura a Pompeo e Crasso di non voler arrivare a uno scontro di aver conquistato la Gallia ma di non avere poi tutte queste grandi ambizioni nel momento infatti Cesare si riserva nell'accordo con gli altri due un altro quinquennio in Gallia quindi dice tranquilli io me ne torno lì in periferia ho ottenuto grande vittoria ma me ne starò tranquillo lì e lascio a voi la scena infatti l'accordo prevede che Cesare che Cesare torni in Gallia ma che Pompeo e Crasso diventino di nuovo consoli l'anno successivo nel 55 avanti Cristo vi ricordate che erano già stati i consoli qualche anno prima ma adesso Cesare di nuovo fa la parte di quello che vuole concedere che non ha grosse ambizioni che non vuole creare crisi e in effetti l'accordo accontenta un po' tutti Cesare può tornarsene in Gallia dove ha il suo bel esercito ha posto i suoi tasselli importanti Pompeo e Crasso possono diventare consoli quindi gestire la situazione tra l'altro si prevede anche nell'accordo che dopo l'anno da consoli sia Pompeo che Crasso abbiano degli importanti incarichi dovrebbero diventare entrambi i proconsoli Pompeo in Spagna quindi un'altra provincia abbastanza importante Crasso in Asia provincia ricca come vi ho detto quindi anche piuttosto ambita quindi come vedete Cesare si pone ancora come quello che vuole mediare qual è il problema che Cesare torna in Gallia adesso vedremo cosa fa Pompeo e Crasso fanno l'anno da consoli alla fine di questo anno Crasso parte per l'Asia dove appunto è proconsole e vedremo cosa gli accadrà Pompeo decide di non partire per la Spagna preferisce rimanere a Roma dove ha fuori dalla città ma non troppo distanti dalla città le sue legioni le sue truppe quindi tenere sotto controllo la situazione e mandare invece in Spagna sui uomini di fiducia ma non allontanarsi troppo dall'Italia perché Pompeo inizia a sospettare che qualcosa possa presto accadere Cesare intanto in Gallia adesso vi dirò cosa accade faccio notare una cosa anche in questo caso anche con questo accordo di Lucca Cesare Pompeo e Crasso certo trovano un compromesso tra di loro ma esautorano ulteriormente il senato di fatto non esiste un triunvirato legale non c'è nessuna legge nessun principio costituzionale diciamo così che stabilisca che a Roma questi tre personaggi possano decidere le sorti della repubblica il potere dovrebbe rimanere nelle mani nel senato ma ormai il senato è sempre più ai margini del potere vero e proprio Cesare Pompeo e Crasso si spartiscono il potere di fatto senza scendere a patti col senato segno che il senato per quanto tente ogni tanto di tramare di organizzare qualche mossa in realtà non ha più la forza di opporsi a questi importanti uomini militari soprattutto che sembrano dirigere le leve dello stato questo equilibrio però tra i tre grandi nomi non durerà a lungo vedete che l'accordo di Luca del 56 a.C. il consolato di Pompeo e Crasso del 55 a.C. nel 54 Crasso parte per l'Asia e lì tenta di fare quello che da tempo sperava di riuscire a fare tenta di mettere in piedi una grande campagna militare come vi ho detto Pompeo era famoso celebre e importante a Roma soprattutto per le sue grandi vittorie militari Cesare aveva appena ottenuto una grande vittoria militare in Galli e quindi adesso anche Cesare era importante stimato e capace di tirare la sua Crasso da questo punto di vista è rimasto un po' indietro perché certo era molto ricco era sempre stato ricchissimo e influente ma gli era sempre mancata negli anni precedenti una grande vittoria militare vi avevo accennato alla rivolta di Sparta in cui Crasso aveva avuto un ruolo importante nella repressione della rivolta ma come vi avevo anche detto Crasso se l'era vista un po' scippare via quella vittoria perché era intervenuto alla fine anche Pompeo e la gente aveva quasi applaudito Pompeo di Crasso insomma Crasso da tempo voleva fare una grande impresa militare e adesso che è andato in Asia pensa di poter lì ottenere grandi successi e soprattutto organizza una campagna contro un popolo che si trova subito al di là dei confini di Roma il popolo dei Parti un popolo che si trovava nell'area mesopotamica anche potente un impero rilevante molto ricco che quindi faceva proprio gola a Crasso la guerra contro i Parti la campagna contro i Parti però è disastrosa Crasso non è per nulla fortunato forse non è neanche così capace dal punto di vista militare si arriva a una battaglia decisiva nel 53 avanti Cristo quindi ripeto il consolato era nel 55 è passato un po' di tempo questa battaglia decisiva è la battaglia di Carre una battaglia particolarmente umiliante per i Romani perché i Parti riescono non solo a sconfiggere e distruggere l'esercito romano ma addirittura a rubare le insegne militari romane segno di grande umiliazione e in questa battaglia di Carre Crasso trova la morte muore quindi ogni sua speranza di poter presentarsi a Roma come un grande conotiero fallisce o muore lì ma soprattutto la morte di Crasso 53 avanti Cristo segna la fine degli equilibri perché finora Cesare era riuscito a tenere in piedi questo trionvirato proprio perché si era in tre proprio perché lui si metteva in mezzo tra Pompeo e Crasso ora che non c'è più un vertice di questo triangolo di fatto si trovano solo Pompeo e Cesare e questi due non hanno più nessuno a mediare tra di loro è chiaro che una volta che muore Crasso Pompeo e Cesare arriveranno presto Ferri Corti si può governare forse in tasse partendo sul potere ma in due paradossalmente è molto più difficile e questo è un segno ma prima che si arrivi alla risa dei conti tra Pompeo e Cesare dobbiamo dire quello che sta succedendo a Cesare mentre Crasso è in Asia perché quando si fanno gli accordi di Luca vi dicevo Crasso e Pompeo diventano prima consoli poi Crasso va in Asia quindi passa del tempo passano un paio d'anni Cesare intanto torna in Gallia e lì è costretto di nuovo a prendere le armi perché aveva già conquistato tutta la Gallia ma ci sono altre terre da esplorare Cesare è ambizioso vorrebbe fare altre conquiste poi soprattutto c'è una rivolta che scoppia dentro la Gallia in un primo momento Cesare tra il 55 e il 54 si lanciò in spedizioni al di là dei confini della Gallia conquistata ad esempio invase la Britannia lanciò un paio di spedizioni in Britannia nell'isola che oggi è l'Inghilterra un paio di spedizioni che andarono anche bene dal punto di vista militare ottenne anche delle vittorie importanti ma non riuscì a conquistare dei veri territori a soggettare quella terra quindi furono prime esplorazioni ma alla fine la Britannia rimase autonoma e separata da Roma e però in quello stesso periodo Cesare provò anche a spostarsi al di là del Reno quindi in Germania nelle foreste occupate dai popoli germanici anche qui ci fu qualche scaramuccia anche relativamente positiva per Cesare ma nessun territorio conquistato quindi diciamo che Cesare inizia a guardarsi attorno senza ottenere chissà quali risultati ma comunque incrementando la sua fama di grande condottiero perché tutte queste spedizioni anche quando non portavano all'assoggettamento del territorio aumentavano comunque la fama di Cesare negli anni successivi però nel 52 soprattutto avanti Cristo Cesare dovette fronteggiare una grande rivolta all'interno della Gallia l'aveva conquistata l'aveva sottomessa ma il popolo dei Galli non era disponibile a restare a lungo sotto il gioco romano infatti le varie tribù che fino a quel momento erano state come vi dicevo divise riuscirono a superare le loro divisioni per mettersi assieme e combattere contro l'usurpatore l'invasore romano in particolare a guidare questo nuovo esercito dei Galli di rivoltosi Galli fu il re degli Arverni il condottiero Vercingetorige famoso ancora oggi celebrato in Francia nella storia francese questo Vercingetorige si mise a capo di un esercito anche molto numeroso formato da circa 300.000 uomini quando in certe fasi almeno i legionari romani in Gallia erano solo 50.000 quindi numericamente molto superiore e soprattutto Vercingetorige riuscì a usare una tattica militare sagace intelligente si rese conto che i Galli in campo aperto non erano in grado di reggere l'urto dei romani anche se erano superiori numericamente perché i romani disponevano di migliori tattiche militari di migliori armamenti eccetera quindi in campo aperto non se ne parlava però i Galli tentarono di agire tramite tecniche che oggi diremmo di guerriglia cioè colpire e scappare in questo modo riuscirono ad ottenere i Galli anche alcuni risultati importanti misero seriamente in difficoltà le truppe romane e Cesare ma nonostante queste prime difficoltà Cesare seppe riorganizzare il suo esercito seppe usare il pugno di ferro veramente durissimo e alla fine dopo appunto grandi battaglie nel 52 avanti Cristo nella battaglia decisiva che fu quella di Alesia riuscì a ottenere una vittoria definitiva sui Galli sui rivoltosi e a sottomettere definitivamente questi popoli li sottomise con la grande capacità militare la battaglia di Alesia fu una battaglia tiratissima che Cesare vinse grazie davvero a ottime doti da generale ma sconfisse i Galli anche per davvero la sua spietatezza anche tramite la sua spietatezza alla fine di questa lunga guerra gallica descritta proprio nel Debello Gallico anche la rivolta di Vercingetorice è raccontata nel finale del Debello Gallico alla fine di questa lunga campagna restarono sul campo morti circa un milione di Galli e circa un altro milione di Galli fu ridotto in schiavitù segno di un massacro un massacro fortissimo che piegò ogni resistenza dei Galli c'era dire che Cesare ottenne quindi questo grande territorio ottenne anche grandi ricchezze poté tornare quando tornerà poi ne parleremo ormai nella prossima puntata a Roma come non solo un grande connettino militare ma anche un uomo ormai finalmente ricco che aveva tenuto per sé una parte di questo grande bottino di guerra ma che aveva anche ripartito una buona parte di questo bottino tra i suoi legionari così facendo Cesare si è ingraziato definitivamente il proprio esercito si l'ha ingraziato conducendo la grande vittoria sicuramente ma anche dandogli un buon bottino di guerra e adesso Cesare finalmente è un esercito che ha risposto a combattere per lui fino all'ultimo e tornerà utile ecco direi che per oggi ci possiamo fermare qui abbiamo tutto sommato visto la conquista della Gallia e tutto quello che gravita attorno che succede attorno in questi anni 50 avanti Cristo la prossima volta vedremo il regolamento di conti tra Cesare e Pompeo la guerra civile che è inevitabile come ho detto che prima o poi scoppi e scoppierà e ne parleremo ma per oggi questo è tutto vi ricordo che in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui sotto mentre spiegavo in modo da poter riascoltare il video da un certo punto in poi trovate anche i link agli altri video che ho citato e poi trovate i link alle playlist ai podcast ai social network e soprattutto vi faccio notare ho aggiunto anche il link al newsletter la trovate sotto è una mail che mando una volta a settimana a tutti gli abbonati completamente gratuita ovviamente in cui racconto i fatti della settimana cioè i video che ho fatto i podcast che ho fatto ma anche i libri che ho letto i film che ho visto le riflessioni storico filosofiche che sono emersi in questa settimana quindi se volete rimanere in contatto rimanere informati eccetera abbonatevi è gratis è facile trovate tutto in descrizione basta ci vediamo presto per andare avanti con il nostro percorso sulla storia romana ma poi anche per altri video di storia filosofia educazione civica ciao alla prossima